Il grande giorno prima o dopo arriverà. Le elezioni per i rinnovi di diversi consigli comunali nella provincia di Reggio Calabria indubbiamente sono un argomento già da prima fila. Innanzitutto perché fervono i preparativi per la presentazione delle liste. Oggi pomeriggio ricordiamo dovrebbe, usiamo per prudenza condizionale, essere ufficializzata la candidatura dell'ex magistrato Salvo Boemi a sindaco di Palmi in quota centro-sinistra. Ma ci sono altri centri della provincia regina che attendono con un certo interesse e soprattutto una certa ansia le consultazioni per il rinnovo dei loro civici consessi. Indubbiamente c'è molta attesa. Anche nel piccolo centro di Portigliola, nella Locride, ad esempio, c'è molta attenzione per il rinnovo del Consiglio Comunale con il giusto tentativo da parte del sindaco uscente di riprovare l'esperienza. Ma non è solo lì che si vota. Si vota anche a merito Porto Salvo, importante centro della Ionica, area grecanica. Ovviamente partiti in prima fila, pronti a darsi battaglia secondo vecchie regole della politica, ma considerando quelle che sono le nuove esigenze della società. Il momento è davvero difficile. La vita dei sindaci non è certamente facile perché devono far fronte costantemente a situazioni tutt'altro che edificanti e soprattutto tutt'altro che incoraggianti. Le istanze di lavoro, le richieste per trovare occupazione da parte di tanti giovani sono pressanti e, diciamolo pure, sono legittime. Il momento è davvero difficile e anche dal punto di vista della politica amministrativa ed economico-finanziaria quella del primo cittadino è davvero un'opera che impone sicuramente non poche ansie. Ovviamente chi si candida per la prima volta o chi si candida per essere confermato sa di che cosa stiamo parlando. Certamente i problemi sono tanti. C'è poi un dato che è utile considerare, un dato che emerge proprio dalla rassegna stampa di questa mattina che ripropone attraverso vari giornali le risultanze di uno studio. Ebbene, sta emergendo che alcuni comuni che sono stati ad esempio sciolti per mafia erano governati da liste civiche. Questo non significa voler criminalizzare le liste civiche, ma è un dato sul quale è opportuno riflettere. Grazie. Grazie.